Senti, io ero un quinto elementare, no? Allora dopo scuola esco, vado a fare un giro al mercato e mi fermo a sto banco, c'è stava un vestito troppo bello, ancora mi ricordo quei fiori rossi. Quello che piegava le magliette mi guarda e mi fa, vuoi provare? Io ti cominciavo una lira, ho detto no guarda grazie, vabbè provare mica costa, prendo sto vestito salgo sul furgone e mi lo provo dietro la tenda, questo mi viene dietro la tenda e mi comincia a toccare. Ti piace il vestito? E mi tocca, io sto ferma non me posso muovere. Dopo è tutto sudato. Non lo odia nessuno eh, mi fa. E mi regala il vestito. Abri a orta agora conto.